Beautiful anticipazioni, Eric chiederà il divorzio? Perdonerà a Rige per quello che ha fatto con Queen? Eric stava per cacciare Sheila di casa, pensava che le due fossero solo invenzioni e invece alla fine Queen ha parlato e ha tirato fuori quello che avrebbe dovuto dire da tempo. Le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda domani 8 marzo 2018 ci rivelano che alla fine Queen dirà tutto quello che deve dire a suo marito Spiegherà a Eric, che tra lei e Rige ci sono stati solo dei baci, nulla di passionale. Solo degli errori, che si sono ripetuti un paio di volte, nulla di diverso. Eric non riesce a credere alle parole di Queen e neppure Rige riesce a credere che alla fine la donna abbia infranto il loro patto raccontando il segreto a suo padre Ma del resto, all'inizio di questa vicenda, Rige non voleva proprio questo? In effetti l'uomo è inciampato nella sua stessa trappola, cadendo tra le braccia di Queen Nessuno però poteva pensare che in questa storia ci sarebbe stato poi anche lo zampino di Sheila, che ovviamente, come potrete immaginare, approfitterà di questo momento per fare quello che vuole con Eric Ma scopriamo nel dettaglio le anticipazioni, che ci rivelano proprio la puntata di Beautiful in onda domani, ecco la trama per voi Beautiful anticipazioni 8 marzo 2018 Puntata di domani, la trama del nuovo episodio su canale 5 Queen, alla presenza di Sheila e di Rige, chiede disperatamente a Derek di perdonarla per aver baciato Rige, aggiungendo che i loro baci erano senza significato, ma lui, amareggiato e deluso, la manda via da casa Bill e Brocchie arrivano in ospedale dove è ricoverato R. Lunga, privo di conoscenza, dopo l'incidente d'auto che gli ha procurato una commozione cerebrale Come avrete visto in questa pazza gita all'inizio al volante della macchina c'era R. Lunga, che poi però ha lasciato il suo posto a Coco, un errore, che potrebbe costargli molto caro In questa occasione Brocchie vorrebbe che ci fosse anche Rige ma non immagina che al momento l'uomo ha altro a cui pensare dopo tutto quello che è successo con Queen e suo padre Che cosa farà Eric? Rige potrà essere perdonato per quello che ha fatto oppure no? Lo scopriremo nelle prossime puntate di Beautiful, continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprire i dettagli